Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di una vera e propria perla rara, un gomitolo che racchiude morbidezza, qualità e filati pregiati che con una calda avvolgente carezza guideranno la vostra creatività e daranno vita a delle creazioni davvero senza tempo. Ecco a voi il Mark. Eccolo qui il Mark, questo preziosissimo gomitolo composto per il 90% da lana Merinos Fine Superwash e per il 10% da Seta, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4,5 oppure dell'uncinetto 3,5 o 4,5. Si presenta in gomitoli da 50 grammi per circa 120 metri di lunghezza. Alcuni pallini che potreste trovare bianchi all'interno del gomitolo credetemi non vedeteli come difetto ma bensì come peculiarità perché non è altro che la seta che fuoriesce nel momento della lavorazione del filato che oltretutto vi bastirà tirare per far sì che insomma non si vedano più però secondo me non può fare altro che dare un tocco in più di originalità al vostro capo. A proposito di questo vediamo cosa l'etichetta ci consiglia per far sì che possa appunto la vostra creazione mantenersi a lungo esattamente come l'avete creata. Consigliamo il lavaggio ovviamente con una temperatura non superiore ai 30 gradi. Sconsigliamo assolutamente la centrifuga ma invece consigliamo di asciugarlo in una posizione piana lontana da fonti di calore. Può essere stirato ad una temperatura però non superiore ai 110 gradi e ovviamente sempre tenendo un tessuto qualcosa che in certo senso possa coprire il vapore del ferro da stiro e far sì che non abbia un contatto diretto con le fibre. Non è possibile candeggiarlo invece è possibile utilizzare tutti i solventi eccezion fatta per il tetracloretilene. Questo gomitolo è un mix di finissime lane merinos mixate alla seta tussa. Che cos'è questa seta tussa? Allora questa viene prodotta dal bozzolo dei bachi selvatici non allevati e infatti viene chiamata anche seta selvaggia o selvatica quindi è proprio del tutto naturale. È anche molto resistente ed è inoltre fortemente igroscopica. Cosa significa? Che quindi assorbe l'umidità e che si asciuga velocemente fornendo quindi maggior tepore. Vediamo però adesso quelli che sono i colori disponibili. Questo è un bel mattone. Poi proseguiamo sempre sul candido e andiamo a questo che è invece il cipria. Eccolo qui. Andiamo invece ad un colore leggermente più forte che è questo che è il rosa antico. Eccolo qui. vedete i pallini bianchi di cui vi parlavo. Ecco. Andiamo su tonalità ben più accese come questa che è il fucsia. E adesso cambiamo invece decisamente tonalità e andiamo su questo che è lo smeraldo. Eccolo. Eccolo. Bellissimo. Cambiamo ancora e andiamo su questo che è il deserto. Eccolo qui. Proseguiamo ancora con questo che è l'oceano. Un bel blu davvero molto profondo appunto. Poi vediamo questo che è invece il petrolio. Eccolo qui. Molto più scuro. E a proposito appunto di colori scuri non possiamo non concludere con il classico nero. Eccolo qui. Quelle che avete visto sono alcune delle colorazioni attualmente presenti sul sito. Ma a breve verranno sicuramente assortiti anche nuovissimi colori. È un capo quindi è un filato davvero unico nel suo genere. che vi consentirà di realizzare dei capi quali cardigan, maglioncini o anche degli scaldacuore. Adatto anche agli accessori quali ad esempio sciarpe, cappellini o un bel poncio. Quindi vi consentirà davvero di realizzare dei capi unici, esclusivi, pregiati e anche molto dedicati. Ecco perché è un filato adatto anche ai più piccoli, quindi ai bambini o perché no anche ai neonati. Ma non per questo è anche fragile. Infatti grazie alla sua composizione, quindi al suo 90% di lana superwash, vi consentirà di far sì che il vostro capo possa essere, dopo un primo lavaggio ovviamente a mano a 30 gradi con un sapone neutro delicato, di far sì che possa essere lavato anche in lavatrice con un ciclo dedicato proprio insomma ai capi un po' più delicati. e quindi adatti appunto a un filato come questo. Insomma se non è perfezione questa davvero sfido a trovare qualcosa di migliore. Mi raccomando non lasciatevi sfuggire questa occasione perché con il MAC riuscirete davvero a realizzare dei capi esclusivi. Io vi do appuntamento quindi al prossimo articolo. Ciao! Aspettate ancora un attimo però. Mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella perché potrete conoscere tutte le promozioni presenti sul nostro sito che comunque man mano Tessiland potrà offrirvi. Mi raccomando iscrivetevi e non perdete neanche un video di Tessiland. Iscrivetevi al nostro canale